Lungo il percorso ci saranno non solo... La ciclovia adriatica è il progetto che vede la realizzazione di una pista ciclabile che mette in comunicazione tutte le regioni della dorsale adriatica, dal Veneto alla Puglia. Un progetto ambizioso, coraggioso e futuristico. A gennaio 2019 infatti partirà il cantiere che vede la realizzazione del tronco che va dal confine con Marotta fino al rio Crinaccio. Grazie all'Unione dei Comuni di Fano, Marotta di Mondolfo e Senigallia che hanno deciso di presentarsi uniti al bando di concorso regionale per il fondo messo a disposizione per la realizzazione dei primi pezzi di questo puzzle che darà vita così alla ciclovia, sono arrivati primi e ora riceveranno la parte di finanziamento spettante alla regione di 1 milione e 400 mila euro che uniti alle quote del 30% spettanti ai singoli comuni permetteranno entro l'estate prossima di vedere completati i primi tre stralci dell'opera per complessivi 2 milioni e 148 mila euro. La ciclovia adriatica che è una pista ciclabile di 1300 chilometri che vanno da Trieste fino a Santa Maria di Leuca prevedono nel tratto marchigiano un tratto di 190 chilometri un'opera molto importante non solo per la viabilità ma anche per il turismo perché siamo consapevoli come le piste ciclabili realizzate a ridosso delle spiagge a ridosso delle stazioni balneari siano di grande sviluppo perché sul turismo ciclopedonale c'è un grande interesse non solo a livello nazionale ma direi a livello europeo. Il turismo legato alla mobilità green, al cicloturismo e ai bike hotel è la nuova frontiera del turismo esperienziale sempre meno stanziale e sempre più attento all'ecologia. Una volta realizzato questa parte del percorso verranno messe in comunicazione le città di Pesero, Fano, Marotta e Senigallia sino alle porte di Falconara con un innesto con la ciclabile del Metauro fino alle porte di Ferminiano un asse dalla forte attrattiva paesaggistico-culturale per tutto il comprensorio provinciale e regionale nonché comunale. È un intervento strutturale significativo ma anche di decoro e di estetica che va a migliorare la qualità della zona e questo sta dentro un progetto su cui noi abbiamo creduto stiamo investendo e con la presentazione di oggi dimostriamo che ora arriva anche la concretezza oltre alla procedurità, agli impegni, agli obiettivi che ci siamo dati oggi arrivano i risultati.